Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Sì, oggi celebriamo tra l'altro il 35esimo anno della scomparsa di Imposimato, questo evento. Presentiamo il libro che in effetti riconosce i grandi meriti a Maroni, quale Ministro degli Interni, per la lotta a tutte le illegalità, in modo particolare alla mafia, alla camurra, qui su Caserta. Il modello Caserta fu proprio improntato dal Ministro Maroni. Siamo sempre soddisfatti, tra l'altro, anche della massiccia presenza di pubblico e quindi abbiamo dato un ulteriore segnale per la provincia di Caserta. Da un punto di vista del contrasto alla malavita, diciamo che il grosso impegno della magistratura sicuramente ci pone in una posizione di maggiore tranquillità rispetto al passato, però non bisogna mai abbassare la guardia perché sappiamo che viviamo in un territorio assolutamente difficile. Cambiamo pagina, si parla sempre di più insistentemente del suo nome alle europee. Smentisco assolutamente. Grazie a tutti.